Ritorno all'appuntamento con Tra le righe incontro con l'autore. Anche questa settimana vi presenteremo un libro che parte dalla corsa, che è uno sport molto impegnativo e faticoso per parlare ai giovani. Il libro che vi presento, Edizioni La Meridiana, è firmato da Don Alessio Albertini, si intitola Con le scarpe comode, quattro chiacchiere di corsa con giovani sportivi. Benvenuto Don Alessio, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi, grazie a voi dell'ospitalità, mi fa proprio piacere tornare nel vostro salotto. Allora, lei grazie, grazie per le sue parole. Lei è consulente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano, ricordiamolo, il più grande ente di promozione sportiva di ispirazione cristiana e ha scritto questo libro. È una copertina molto bella con due paia di scarpe da ginnastica, scarpe da corsa in copertina. Una prima curiosità, come dire, per entrare tra le pagine di questo libro che poi i nostri telespettatori andranno a leggere. Qual è l'idea di fondo che l'ha spinta a mettere nero su bianco? L'idea di fondo è nata perché eravamo alla vigilia del sinodo dei giovani, indetto da Papa Francesco e quindi il mondo sportivo è un mondo abitato da tanti giovani, anzi per certi versi la fanno da padrone come fascia d'età. Allora si voleva così lanciare un messaggio anche a tutti questi giovani che abitano questo mondo per farli riflettere un momento sulla stagione della vita che si trovano ad abitare e a vivere. Allora per non entrare nelle solite prediche piuttosto che riflessione, sapendo che lo sportivo ha un'abilità immediata nel cogliere l'argomento, la riflessione, mi è venuto in mente così. Allora facciamolo partendo da una corsa, visto che in quel tempo mi era capitato di uscire ancora nuovamente a correre e incontravo tantissimi giovani in questo modo e allora da lì è partito un po' il tutto. Ecco, nelle chiacchierate si parla di sport, di imprese sportive, di grandi sportivi, ma si parla anche di temi importanti di oggi, si parla di speranza, si parla di amore, si parla dell'essere giovani oggi, insomma temi davvero importanti per i ragazzi oggi. Sì, non voleva essere un testo di presentazione dei grandi personaggi sportivi, ma se mai dei grandi valori che tanti personaggi sportivi hanno incarnato comunque diventavano uno specchio è un'occasione per far riflettere questi giovani. A più riprese Papa Francesco ha detto ai grandi sportivi che hanno una grande responsabilità nei confronti delle giovani generazioni perché li guardano, li ammirano, si ispirano a loro. Per questa ragione allora ho voluto partire dalla storia di alcuni di questi personaggi che sanno suscitare la curiosità, l'ammirazione, l'attenzione degli sportivi per far vedere come attraverso magari le loro vicende, le loro parole, le loro scelte, le loro imprese fossero presenti grandi valori che comunque devono animare la vita di un giovane. Da lì allora l'idea del sogno, l'idea della corsa, l'idea della resistenza e anche quella dello scontro con la morte perché quando muore un giovane e muore un giovane sportivo si interroga un po' tutto il mondo e non prettamente solo quello legato allo sport perché la vita di un giovane strappato in maniera così drammatica nelle sue forze più belle inquieta e pone degli interrogativi e sono tanti giovani sportivi morti tragicamente. Quindi attraverso questo, chiacchierando un po' con questo giovane con cui percorro questo tratto di strada, ci raccontiamo un po' la vicenda di questi sportivi e soprattutto ci diciamo che cosa è bella la vita e come può diventare preziosa se coltiviamo determinati valori. E così, leggendo queste pagine mi sono venute in mente delle parole di Don Tonino Bello che si arrabbiava quando gli veniva detto che i giovani sono il futuro. Lui diceva no, i giovani non sono il futuro, i giovani sono il presente. E così anche per lei Don Alessio, il libro è un po' anche dedicato al nostro presente appunto che sono i giovani. Sì, io credo proprio di sì, credo proprio di sì perché quando poi, se sono semplicemente il futuro, ecco quando questo futuro diventerà presente loro non saranno più giovani, saranno adulti se non addirittura anziani o vecchi. E quindi a quel punto, cioè il giovane ha finito di vivere la sua esperienza. Ma con il rischio grande per esempio degli adulti di oggi che una volta diventati adulti vogliono tornare ad essere giovani. Per cui vedi una cultura degli adulti molto giovanilista nell'abbigliamento, nelle scelte che fanno, nel linguaggio, nella modalità. E un giovane li guarda e dice ma scusa ma perché devo diventare adulto per tornare ad essere giovane, no? Ecco la giovinezza è un tempo che tutti ci troviamo a vivere, a traversare e deve essere vissuto per quello che è. È il tempo in cui hai davanti tante scelte. Cioè la giovinezza è questo, l'essere adulti è aver fatto una scelta ed esserne rimasto fedele. Ma questo è il momento dei sogni, questo è il momento del tentare il rischio, questo è il momento di far sentire la propria voce, di credere ancora nei sogni, nell'immaginazione che non è un'illusione, l'immaginazione è la capacità di prepararsi a qualche cosa che si vorrà fare, che si vorrà costruire. Per cui noi abbiamo bisogno dei giovani oggi, non soltanto per il futuro, ma oggi perché ci inquietino, ci facciano vedere delle cose completamente diverse? Ecco perché allora abbiamo bisogno che un giovane faccia il giovane, adesso sia giovane, non sia come per citare un altro libro, non sia uno straiato, ma invece sia uno appassionato, veramente. Magari poi sbaglierà, però la fortuna sarà di incontrare anche un adulto che li faccia vedere dove eventualmente sbaglia, o nello stesso tempo di incontrare degli adulti che si appassionino a lui e che siano inquietati dal suo entusiasmo, dalla sua creatività. Don Alessio, che cosa intravede appena dopo il traguardo? Bella cosa, perché dopo il traguardo c'è il momento della gioia se hai vinto e il momento della tristezza se non ce l'hai fatta, però c'è anche la grande soddisfazione di aver portato a termine una lunga gara, una lunga maratona. Io non ho mai fatto le maratone, però tutti mi dicono che nonostante la fatica, nonostante tu senti a un certo punto della gara la voglia di abbandonare tutto e di domandarti chi te l'ha fatto fare, se riesci a superare quel momento di crisi e arrivi alla fine, provi una grande soddisfazione perché hai fatto tutto quello che potevi fare. Ecco, mi piace pensare che dopo il traguardo ci si possa voltare indietro senza avere rimpianti, ma aver dato il meglio di sé, il massimo, quello che potevamo fare in quel momento lì. Questo è l'augurio davvero che io faccio ai tanti giovani con cui ho a che fare e che magari ci ascoltano o che così hanno avuto e avranno l'occasione di leggere queste pagine. Proprio in conclusione, una battuta finale, quando si scrive un libro è perché appunto si vuole comunicare qualcosa, ma lei scrivendo questo libro ha imparato qualcosa? Sì, sì, ho imparato ad ascoltare di più i giovani, ad ascoltarli. Tante volte, avendo vissuto molto la pastorale giovanile per tanti anni, la pastorale giovanile, hai sempre l'impressione di avere tu qualche cosa da dire ai giovani. Invece i giovani cercano anche qualcuno che li sappia ascoltare, che li sappia voler bene per quello che sono anche nella loro imprevedibilità. Quindi ho imparato ad ascoltare, ho imparato a capire anche che non è sempre vero che i giovani non sono all'altezza, ci sono tanti, tanti, tanti giovani bravi, altri che hanno bisogno, come si suol dire, di essere messi un po' in bolla, però ci sono tanti giovani bravi. E anche andando a ricercare un po' queste storie, a ricercare un po' queste imprese, mi sono accorto, ho imparato di quanto è grande l'abilità umana, quanto il Signore ci ha resi capaci di fare imprese straordinarie e inimmaginabili. Cioè come alcune vicende, alcune storie che vengono raccontate di questi giovani sportivi. Davvero sono rimasto colpito e ho imparato che tante volte il sacrificio, la costanza ti portano là dove neppure potevi immaginare. E sono certa che anche coloro i quali leggeranno questo libro avranno la stessa sua sensazione e percezione. Intanto ricordo ai nostri telespettatori il titolo del suo libro, Con le scarpe comode, quattro chiacchiere di corsa con giovani sportivi. Edizioni La Meridiana e il libro è firmato da Don Alessio Albertini, che ringraziamo per essere stato con noi in questo appuntamento dedicato ai libri. Grazie, davvero è il caso di dire buona corsa e perché no, al prossimo appuntamento magari con un nuovo lavoro. Certo, grazie a voi dell'invito, buon tutto. E davvero una bella sudata di corsa ci fa proprio piacere. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.